Buongiorno ragazzi, ciao Dello Ciao ragazzi, qui a Robert Guys Oggi c'è un video di 16.15 Stiamo andando su ad allestire il banchetto Robi di Giorno Comics 2015 Robert Guys Ragazzi qui a Robert Guys, sono con Clay Danbuck Della Ghostbusters Italia Noi mi mettichiamo organizzatore dell'area fantasciente Del Touring World Mettetevi un attimo a posto Ciao Buongiorno ragazzi, questo è il nostro stand Inizia la giornata al Torino Comics È il 17 aprile, venerdì 17 Fresco fresco di con maglietta nuova Siamo al Torino Comics edizione 2015 Buongiorno ragazzi Ciao, qua abbiamo il nostro Michael Myers Ancora in borghese Robert Guys, ready to action Qui c'è l'Undersky production Oh e qua abbiamo la porta di Shining Realizzata dal randaggio alias Leatherface E' una bottiglia di rum Questi cazzi Allora ragazzi siamo qui con James Garofalo L'organizzatore dell'Horror Fest Ciao a tutti Un bacione, un abbraccio Senza artigli Mi raccomando Agli amici di Horror Man Guys Ciao Che grande Un grande saluto dal Torino Comics 2015 A tutti gli amici di Horror Man Guys Da parte di Kimo de Panma Il donatore di Pegasus, Di Arco, Devilman E chi più ne ha Ovviamente Ciao ragazzi In realtà oggi non si capisce A metà anni Va a metà Leatherface E' buono Poi Da alle crisi esistenziali Che ne so E' action Buon saluto Ciao 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 a tutti ragazzi qui a RobedDuy Siamo con Frazza Crossotto E voi vi direte che cazzo è Il mio se ti veste a persona Oh belle Siete i mitici Siete grandi Staccate Siamo per andare a presentare il cortometraggio Qua con me c'è il rendaggio Che oggi è molto più selvaggio Perché la maschera di Hannibal È vestita come l'Headroface È un duro lavoro Quello di rimanere qui vicino a voi Ma qualcuno lo deve porpare Ciao È tutto pronto Lello tua mamma Non lo so Infatti vediamo adesso Un po' della mamma Ma avete finito Avete fatto il cazzo Ma bro Bello Cioè Ho fatto un sacco di foto Ho ricevuto un sacco di complimenti Ed è solo il primo giorno Insieme a noi Ciao ragazzi Grazie e l'andaggio Bella ragazzi Siamo alla fine dei tre giorni di Torino Comics Alla fiera che c'è stata Il Gotto Fiere È stata una bella esperienza Per quanto ti riguarda Due ragazzi Un hotel Interessante Eravamo vicino all'Orofest Per chi ha comprato qualcosa al nostro stand Sa benissimo che partecipava a un concorso Un concorso per vincere un biglietto al Luca Comics Vi sono d'accordo? Sì Va bene ragazzi Ora faremo l'estrazione appunto per la vincita del biglietto Per il Luca Comics Qua dentro ci sono tutti i vostri nomi Quattordici Numero quattordici De Rosa Andrea Bravo Ragazzi ricordatevi di mettere un bel like alle nostre pagine Horror Bad Guys Quella degli origami Come la devo chiamare il gadget shop E lo spacciolone Ricordatevi di seguirci sul nostro canale Se il video vi è piaciuto mettete un bel like qua sotto Iscriveteci Fateci delle domande E alla prossima Ciao Ciao